E' una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, di gioia, di responsabilità perché milioni di italiani ci hanno chiesto di riprendere per mano questo Paese, di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza decisi a norma di legge da Renzi, da Bruxelles, a colpi di spread, di barconi, di fallimenti di banche, quindi lo vedo come un voto di futuro. E adesso Forza Italia proprio per capire come questo sorpasso...